Salve ragazzi siamo i giocatori per caso e oggi facciamo un video assurdo, molti non lo sanno ma esistono dei mezzi del Natale che girano per la mappa questo è il camion di Babbo Natale che lancia i regali e c'è anche una moto con sopra le renne, sì cosa assurda ma molto divertente in questo video proviamo a cercare di fermare il camion di Babbo Natale per vedere se riusciamo a bloccarlo per rovinare il Natale a tutti sto scherzando non voglio rovinare il Natale, voglio solo vedere se riusciamo a bloccare il camion di Babbo Natale e intanto vi facciamo un bel maglioncino per Babbo Natale, ma innanzitutto iscrivetevi al nostro canale tutto è iniziato quando stavo gironzolando con la mia nuova Lamborghini e ho trovato questa roba qui che cos'è? è una moto con sopra due elfi con le orecchie da renna e che cosa me l'ho lanciato? una menta peperita, lanciano le caramelle, quelli sono gli elfi di Babbo Natale che vanno in giro e lanciano le caramelle dove venite qua? dove scappate con quella turbo moto? vanno in giro e lanciano le caramelle quando trovano le persone e io voglio vedere, ci dimmi, chiaro, vediamo un po' che cosa succede se mi avvicino loro beh, prima cosa voglio provare a bloccargli la strada per vedere che cosa succede se ci girano attorno, se si fermano vediamo che cosa fanno, sembra che non gliene frega niente hanno deciso di passarci sopra ah, ok, allora, metodo due adesso costruiamo un recinto vediamo se riusciamo a fermarli, facciamo qualcosa di fatto un po' meglio ci girano attorno guarda, sono anche furbi, ci girano attorno, ma io li blocco in questo modo ok, adesso sono andati a sbattere vediamo un po' cosa fanno vanno ancora a sbattere vanno ancora a sbattere, si sono impiantati ah, quindi se facciamo un recinto ben fatto, fatto così, riusciamo a fermarli dopo qualche minuto che continuano a sbattere ho deciso di liberarli non voglio rovinare il Natale a nessuno io ma adesso cerchiamo Babbo Natale e il suo camion dopo una ricerca furiosa, eccolo qui guardate, questo è il camion di Babbo cosa sta lanciando? sta lanciando anche lui le caramelle, bellissimo mi ha lanciato un pacco regalo wow, ma dove va? quell'arcobaleno oh, voglio, voglio rubargli il camion, è bellissimo allora, iniziamo, procediamo con ordine vediamo cosa c'è dentro questo bel pacco oh, mi ha fatto il regalo di Natale tanti scildini il me di nebbia ma noi siamo troppo motivati per dargli la caccia e non lasciarlo scappare guardate quanto è bello esce anche l'arcobaleno dai tubi di scarico in alto uh, bellissimo allora, posso salire innanzitutto o mi spara dietro qualcuno? ciao sì, posso salire ok adesso che abbiamo capito che possiamo salire mh, cosa facciamo con il camion? dove fermiamo? proviamo a vedere se riusciamo a fermare il camion visto che va per la sua strada intanto faccio un bel maglioncino Babbo Natale va bene tutti motivati e fermiamo il camion per prima cosa costruiamo delle rampe io ho visto che se mi metto davanti al camion lui si ferma per non prendermi sotto ma se... hanno sparato? chi è che spara? ok, proviamo con qualcosa di più potente mettiamo una serie di muretti di legno, va benissimo per bloccare dentro il camion e niente, è passato lo stesso ma ha rotto allora ha rotto il muretto questo è più intelligente degli elfi di prima perché hanno rotto il muretto noi andiamo più avanti facciamo qualcosa di ancora più sofisticato e vediamo se riusciamo a bloccare tutto adesso lo metto di qua lo metto di qua così non puoi passare andiamo su lo mettiamo tutto attorno via dall'altra parte e voilà adesso voglio proprio sta cercando di girarci attorno ma allora è intelligente questo camion eh vediamo che cosa fanno adesso che sono bloccati dentro ah, sparano c'è qualcuno che spara ma io non mi arrendo adesso ci mettiamo davanti con la macchina vediamo se riusciamo a fermarla una volta per tutte no preferisce distruggermi la macchina mi stai distruggendo la macchina ma dai ma che razza di babbola tale se mi distruggi la macchina madonna me l'ha conciata come un coperchio vabbè io ti batto comunque dietro e te la metto davanti un'altra volta vediamo se stavolta riesci a farmi esplodere scendiamo perché qui ci sarà un bel botto e andiamo e niente lui ci passa di fianco se ne frega della mia macchina ma noi non ci arrendiamo questa volta vediamo se riusciamo a mandarlo dall'altra direzione fagli cambiare la strada ok si è fermato sta facendo retromarcia e si è impiantato sta facendo retromarcia ma lì c'è il furgone di riavvio e non può buttarlo giù è vero guardate sta cercando di andare indietro come un pazzo contro il furgone di riavvio e non puoi buttare giù il furgone non lo puoi distruggere per cui un bug si è impiantato qua lui cerca di fare retromarcia ma è bloccato dal furgone e adesso noi lo blocchiamo anche davanti con la macchina vediamo un po' cosa fare è arrivato Luigi ok allora gli metto la macchina ma è sceso? no non dirmi che è sceso dai 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 posso salire io per caso? passeggero dai fammi salire oh sono sul camion di Babbo Natale è troppo bello ma allora lo posso anche guidare è sceso anche l'altro grande aspetta aspetta vado alla guida vado alla guida e scappo col camion vai la guida posso guidarlo? troppo bello troppo figo vai ho preso torno all'edito via via scappa 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 metto il turbo oh è fantastico e mi è esplodato il camion ma basta ho fatto esplodere il camion ma dai adesso però lo riguardo in modalità replay troppo bello non ce la faccio più dalle risate allora qua il camion si è reimpiantato vedete sta girando all'indietro con le ruote è sceso un elfo e l'altro l'ha preso dal suo posto e mi hanno lanciato anche la caramella e questa parte non l'abbiamo vista ma noi eravamo troppo motivati a rubargli il camion per vedere la caramella avete visto? uno di questi elfi con le orecchie da Ren è sceso l'altro ha preso il suo posto io sono entrato mi vedete lì alla guida ciao sono sul camion di Babbo Natale ciao anche se c'è un po' di fumo fa niente qui l'altro elfo è sceso così ho pensato bene di rubargli il camion bene partiamo col camion come dei pazzi e ho per sbaglio preso sotto l'elfo e non ho fatto apposta ecco chi mi sparava è Babbo Natale che mi spara adesso scappiamo col camion e qui fa esplodere tutto e vedete il camion che vola via bene a questo punto è nata una rissa tra me e Babbo Natale ma mi sembra normale che devo sparare a Babbo Natale ma dai e gli elfi là dietro stanno arrivando perché vogliono difenderlo e c'hanno ragione sto sparando a Babbo Natale sono una persona cattiva lo so allora com'è finita è finita in tragedia è finita perché è finita perché io ho dovuto ammazzare Babbo Natale mi piace per questo perché ho rovinato il Natale ma poi gli elfi si sono vendicati e mi hanno ammazzato per cui per cui siamo pari bene se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like e fatemi sapere se volete vedere altri video assurdi come questo ciao ciao se questo video ti è piaciuto metti un pollice in su che per noi è un gesto bellissimo iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per essere sicuro di ricevere tutte le notifiche e attiva la campanella e attiva la campanella e attiva la campanella e attiva la campanella